Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Snorly Art. Oggi ho deciso di portarvi con me a Roma, ma per fare questo dobbiamo tornare indietro nel tempo di due anni. Sono stato a Roma il dicembre 2019 e l'altro giorno stavo sfogliando le foto e ho pensato che fosse stato carino farci un video. Per farlo mi sono ispirato a un vecchio video di Richard Htt. Il primo monumento che ho deciso di imbrattare è il Colosseo, diciamo il monumento per eccellenza di Roma. E dato che a me piacciono tanto le sirene con questi buchi che potevano sembrare delle grotte sottomarine, ho deciso di inserire tanti pesci e appunto tante sirene. Faccio prove di ogni posa, quel che hai dentro è un bel guaio. E se seguissi il mio cuore, non temendo alcun errore, Oh, oh, per favore! Vorrei non fosse necessario fare tutto perfetto, avrei modo così di esprimermi. Potrei creare Hakkaranda, o dico che... Cos'è? Strangola... Ecco qua! Per il secondo disegno ho pensato di cambiare, disegnare una sorta di angelo, ma poi ho osservato la lancia e ho pensato che ci stesse bene un pesce infilzato. E quindi per questo motivo alla fine l'angelo è diventato una sirena in ogni caso. E quindi per questo motivo alla fine l'angelo è diventato una sirena in ogni caso. Palma del sera è una vera sfida, come non mi opporrò! E poi? Ed eccoci al terzo ed ultimo disegno. Ormai dato che ho fatto tutto a tema sirene, dovevo cambiare proprio per la fontana di Trevi, non mi sembrava il caso. E quindi dato che ho visto questi lampioni così luminosi, ho pensato a una sirena altrettanto luminosa con tanti fasci, piccoli fasci di luce in via. Arrigo con la tabella e buia, ma ho cambiato le mie idee. Ora mai lo devo in te e grazie a te che ho aperto gli occhi e scoprirò cos'altro farò. Si è subito, cos'altro farò. E poi lo so, cos'altro farò. Grazie a tutti!